Qual è la sua valutazione? Abbiamo messo in campo in questi mesi anche un lavoro significativo, soprattutto per puntare a un rapido cambiamento anche di rotta all'interno del teatro stabile, più qualità, più diversificazione culturale, più giovani, più energia, più apertura a maggiori spettacoli. Questo è il lavoro che si stava facendo e abbiamo quindi puntato anche a due energie dello spettacolo, del teatro e dell'arte della nostra città che sono Rosaria De Cicco e Patrizio Rispo. Abbiamo offerto la nostra disponibilità in un ambito di una cornice che avremmo voluto istituzionalmente unitaria di offrire anche, come è sempre stato per il teatro della città di Napoli, la figura di un presidente che fosse espressione della città o comunque di trovare insieme un percorso condiviso che si arrivasse in qualche modo all'espressione di una figura che potesse rappresentare l'armonia di tutte le istituzioni. Ancora una volta registriamo invece che si è voluta fare un'operazione di parte, comunque al di là dell'autorevolezza istituzionale del presidente, ovviamente che conosciamo e che riconosciamo persona che ricopre un incarico istituzionale di così alto prestigio e così alto livello, ed è proprio per questo, per l'autorevolezza istituzionale del ruolo ricoperto, che avrebbe indotto a non farne apparire oltre che essere una candidatura di parte, cioè che proviene da una parte politica e quindi diviene una nomina politica. Questo per il teatro è un errore, perché il teatro è un bene comune e non è di qualcuno. Noi continuiamo a lavorare perché ci possa essere sempre l'equilibrio tra le istituzioni diverse tra di loro, ma che quando si parla di cultura e si parla di beni comuni si deve avere una logica non di parte di chi ricopre un ruolo istituzionale, ma bisogna avere la capacità di trovare punti di armonia e punti di equilibrio. Quindi non siamo soddisfatti di come è andato l'esito di oggi del CdA, ma non perché necessariamente fosse assolutamente giusto, legittimo e corretto che fosse la città di Napoli ad esprimere il presidente, già qua mi potrei fermare per dire che non esprimo soddisfazioni, ma è il metodo che non è stato utilizzato per raggiungere questo obiettivo. C'erano tutte le condizioni per poterlo fare, per poter cercare un dialogo diverso e per poter convergere in un modo che mettesse insieme sulle stesse figure tutte le istituzioni che sono rappresentate. Detto questo, noi impegneremo nella loro autonomia i tre componenti del Comune di Napoli perché si lavori rapidamente, perché i luoghi della cultura siano sempre più luoghi aperti, luoghi di cultura diffusa, in cui si possa dare un'offerta culturale sempre migliore, che si possano avere dei bilanci corretti, che si guardi con attenzione le spese, dove vadano le spese, in che direzione vengono impiegate le risorse, il rapporto tra il teatro stabile, il teatro festival e il teatro nazionale. Questa è una città che investe sulla cultura come risorse umane, come impegno politico e istituzionale, pur avendo pochissime risorse economiche rispetto ad altri. Continueremo a considerare inaccettabile il ragionamento che viene fatto da altri che chi ha più soldi più può diventare il padrone. Della cultura non si può essere padrone, perché la cultura è un bene comune, non accetteremo da parte di nessuno questa logica proprietaria dei beni comuni.